Benvenuti su Febbre da Gossip. Prima di scoprire cosa è successo, ti invitiamo cordialmente a iscriverti al nostro canale attivando la campanellina per ricevere le ultime notizie. Se apprezzi il nostro contenuto, ti chiediamo gentilmente di lasciare un like e condividere i tuoi commenti. Il tuo supporto è di vitale importanza per la crescita del nostro canale. Grazie per essere qui. La rinomata cantante lirica di fama mondiale, Katia Ricciarelli, è stata recentemente al centro dell'attenzione. Ha condiviso infatti aspetti intimi riguardanti il suo lungo matrimonio con il celebre conduttore televisivo Pippo Baudo, un legame che ha attraversato quasi due decenni e ha raggiunto la sua conclusione con un divorzio nel 2007. Durante un'intervista nel salotto di Serena Bortone, Ricciarelli ha rivelato dettagli significativi della sua vita privata che hanno suscitato notevole interesse. Tra le confessioni più rilevanti, c'è l'ammissione della sua assenza di figli nella sua esistenza. Ci ho provato nei primi anni della mia carriera, ma senza successo, ha affermato Ricciarelli, evidenziando che tale scelta è stata in parte influenzata dalla sua profonda dedizione al suo lavoro, il quale spesso non le lasciava sufficiente tempo e spazio per una vita personale completa. Il corso della sua carriera ha portato Katia Ricciarelli a incrociare il cammino di Pippo Baudo, l'uomo destinato a diventare l'amore dominante della sua vita. Nonostante la separazione nel 2004, la cantante ha rivelato che la loro relazione aveva già iniziato a vacillare nel 2001. Un tema ampiamente dibattuto in quel periodo era la questione dell'entità degli assegni alimentari che Baudo avrebbe dovuto fornire alla sua ex moglie. Voci online avevano fatto circolare cifre straordinariamente elevate, come 12.000 euro al mese e somme considerevoli a titolo di liquidazione. Tuttavia, Katia Ricciarelli ha recentemente rilasciato una dichiarazione per smentire queste notizie. Ha chiarito che non ha ricevuto alcun supporto finanziario né durante il loro matrimonio né dopo il divorzio. In particolare, ha rivelato che è stato concesso solo per un breve periodo un assegno mensile di 12.000 euro. Questo assegno è stato interrotto con il divorzio e da quel momento in poi, Pippo non le ha più fornito alcun sostegno economico. Ricciarelli ha sottolineato che non ha mai richiesto nulla da lui e che il suo lavoro le garantisce un'indipendenza economica totale. È importante sottolineare che per un artista del calibro di Ricciarelli la stabilità economica non è mai stata un problema. La sua carriera è un esempio di talento e determinazione, dimostrando che il suo percorso è tracciato dalla sua autentica dedizione. Gli scandali non hanno inciso sulla sua realizzazione artistica. In conclusione, la vicenda di Katia Ricciarelli ci insegna che le apparenze possono ingannare e che la verità alla fine emerge. Lascia un tuo commento per farci sapere cosa ne pensi al riguardo.